Automobilisti avvisati, in arrivo tre nuovi autovelox sulla Val Sugana. La decisione è stata presa dall'osservatorio provinciale per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale presso il commissariato del Governo. Almeno tre autovelox sono in arrivo sulle strade della Val Sugana, altrettanti nuovi impianti di rilevazione della velocità che saranno posizionati nei comuni di Caldonazzo, Tenna e Levico Terme. A breve verrà preparato anche un decreto di aggiornamento per la loro installazione che verrà pubblicato sul sito istituzionale del commissariato del Governo con l'indicazione dei tratti stradali dove saranno posizionati i nuovi dispositivi fissi. Grazie.